La quinta vittoria stagionale, 3-1 al Giulianova, funge da ottimo viatico per la sfida di San Benedetto del Tronto, gara molto attesa dal tifo rosso-blu. Non è stato il miglior campo basso, ma la squadra ha comunque offerto una buona prestazione da contraltare, alcuni evidenti sbavature difensive. Di fronte al buon complesso del Giulianova, in cui hanno spiccato Mariani, Censori ed Esposito, l'allenatore Giorgini era in tribuna perché squalificato, circa 1200 spettatori a Selvapiana. Al tredicesimo il Campobasso dimentica Calabui al centro dell'area, ma l'impatto con la sfera non è dei più felici. Tre minuti più tardi, Mariani riesce nel cross, spizzato da Nassi, applausi a Conti che si producino uno spettacolare colpo di reni. Botta e risposta tra Campobasso e Giulianova nel giro di tre minuti. Al diciassettesimo, indovinato il corridoio di Di Gennaro per Todino, bene il 10 rosso-blu nel pescare l'angolo basso e portare in vantaggio il Campobasso. Bella l'esultanza di Todino sotto i colori della Nord Scorrano, il vantaggio dei padroni di casa dura un lampo, appena tre minuti per ristabilire da parte giallorossa la parità. Basta un traversone di Testoni e un colpo di testa di Gaetani per il pareggio abruzzese, ma è evidente la falla difensiva del Campobasso, legittimo il pareggio del Giulianova. Anche gli abruzzesi dimostrano lacune difensive abbastanza evidenti, il Campobasso ne vuole approfittare al 33esimo da Fusaro a Dragone che si autolancia prima di scheggiare la traversa con un gran destro. Ancora due minuti, ancora Dragone, visto da Di Gennaro, stavolta il tiro, sorvola la traversa. Partita aperta, buon Campobasso al cospetto di un Giulianova giunto a Selvapiana, chiaramente per vincere al 36esimo cross di Rossafio. Testa di Nassi palla fuori di un soffio, intorno al 44esimo porta palla esposito, destro scoccato, ma anche bloccato da Conti. Un solo minuto di recupero prima dell'intervallo. Dal primo della ripresa Farina fa entrare Cianci, il luogo di Di Gioacchino. Al nono, destro del capitano Giuliesse, Censori, Minadeo fa da muro. Al dodicesimo è Todino a procacciarsi una punizione a pochi metri dal limite dell'area. Prima della battuta entra Fazio, il luogo di Pani. La battuta stessa va a Minadeo, che azzecca l'angolo giusto alla sinistra di Falso. I lupi si riportano così in avanti e Minadeo si fa tutto il campo per raccogliere l'esultanza della Scorrano. Il Giulianova decide per le quattro punte, mentre i lupi vorrebbero chiudere la partita con Minadeo al 23esimo, ma il destro, da buona posizione, sorvola la traversa. Nei giallorossi in campo indelicato per Gaetani, mentre dal 33esimo Scudieri rileva Miani. Farina si copre, la difesa diventa una linea 5. Todino continua ad appoggiare l'unica punta che è Di Gennaro. Intorno al 38esimo sborgia, si gira nello stretto e Dragone a ribattere. Azione che continua con il cross di Testoni, tuffo di testa di Precchiazzi, la pala si spegne a lato. C'è tempo e modo anche per il quinto gol stagionale di Di Gennaro, che è caparvio. Al 92esimo, quando riesce a passare in mezzo a tre, chiede ed ottiene lo scambio a Fazio. Si ritrova solo davanti a Falso, che viene battuto proprio dall'attaccante rosso-blu. Di Gennaro non ce la fa più e si butta a terra stanchissimo. Termina con la rovesciata sull'esterno della rete da parte di Precchiazzi all'ultimo minuto di recupero. A fine gara il pubblico della Nord Scorrano si stringe intorno alla squadra. A Riviera delle Palme si prospetta un altro esodo rosso-blu, stile Elvia Recina di Macerata.